Davide del Mare, regista di Cacciaguida e il cortometraggio dedicato a Vincenzo Casillo. Non sarà stato facile restare fedele al personaggio da raccontare e soprattutto riassumere in una trentina di minuti la vita e il pensiero di Vincenzo Casillo, strabiliante nella sua volontà di forgiarsi un destino unico sin da bambino? Esatto, è stato realizzato questo filmato per volontà della formazione Vincenzo Casillo che raccontasse della persona e non solo della sua carriera imprenditoriale che ha portato al gruppo Casillo a essere leader europeo del grano duro. Appunto questo filmato è un testimone di 4, almeno 4 elementi chiave della sua personalità che sono il valore sicuramente della materia prima del grano appunto, il valore della famiglia, il valore del territorio, la Puglia, le culture, le tradizioni connesse ma soprattutto il valore del sogno perché era un grande sognatore perché già da ragazzo aveva una visione concreta di quello che voleva realizzare sia appunto a livello aziendale questo nuovo impero del grano ma soprattutto voleva che la sua famiglia un giorno portasse avanti la sua strada, il suo compito. Ed è così è stato, infatti oggi i figli dirigono l'azienda. Grazie a tutti.